99% è da alcuni giorni infatti che l'Asla Toscana Sud-Est traccia ormai la totalità dei positivi e dei loro contatti nell'arco di 24 ore. Una percentuale che è la migliore della Toscana dove la media è del 91%. Con un lavoro che in realtà è più pesante, mentre in Toscana la media dei contatti per caso è di poco superiore a 2, nella Asla Toscana Sud-Est è tra il 2,5 e il 2,8. La percentuale è di 99 ma non del 100% a causa anche dello sfasamento temporale dovuto al fatto che i casi della sera antecedenti la mezzanotte non possono oggettivamente essere tracciati il giorno stesso ma vanno alla mattina dopo. Un lavoro che ha impegnato 184 operatori sanitari nelle tre centrali dell'area vasta, 21 a Grosseto, 31 a Siena e 132 ad Arezzo. Il perfezionamento dei protocolli di lavoro sta adesso progressivamente portando alla chiusura delle centrali di Siena e Grosseto e al concentramento così delle attività in quella per l'intera Asla che è stata avviata nel polo fieristico di Arezzo. Ormai da alcuni giorni commenta Maurizio Spagnesi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asla Toscana Sud-Est, tracciamo tutti i casi nell'arco delle 24 ore. Determinante è stata la scelta aziendale di puntare con forza sul tracciamento. Stiamo anche raggiungendo, conclude, l'azzeramento dei casi positivi anche asintomatici e con tampone negativo in attesa della certificazione di guarigione da parte del Dipartimento. Daniela Cardarelli, direttrice del Dipartimento delle Professioni Tecnico-Sanitarie della Riabilitazione e della Prevenzione, spiega poi le ragioni del risultato della centrale. Abbiamo velocizzato i protocolli di lavoro. Un coordinatore arriva mezz'ora prima degli operatori ed estrae dal sistema i casi su cui farli lavorare. Tempi più veloci e materiali più puliti. Un caso richiede adesso tra i 50 e i 60 minuti. L'ASRA Toscana Sud-Est è dunque vicina al 100% dei casi trattati in 24 ore, così come il dato sugli irreperibili è ormai prossimo allo zero, e questo anche grazie alla collaborazione con gli addetti al CUP e con i sindaci del territorio.